Accanto al bilancio abbiamo naturalmente allegato un piano di dismissioni, di dismissioni immobiliari perché come ormai da alcuni anni fa lo Stato, fanno le regioni, fanno tutti i comuni, per avere le risorse, per finanziare gli investimenti è necessario razionalizzare le proprietà e le risorse e ci sono proprietà immobiliari che non sono necessarie al funzionamento dell'ente. Quindi noi presenteremo un bando nei prossimi giorni offerto al mercato di proprietà immobiliari che non sono in questo momento necessarie per l'attività della città metropolitana, alieneremo a Invimit che è il fondo immobiliare del Ministero dell'Economia alcuni beni immobiliari pubblici importanti come la Questura, come la Prefettura, come la Caserma Bergia che rimarranno in proprietà pubblica, soltanto che anziché essere in proprietà della città metropolitana saranno in proprietà dello Stato e per quanto riguarda Palazzo Cisterna che è un importante bene architettonico e storico della nostra città, del nostro territorio e della nostra regione, noi lo abbiamo immesso questo bene nell'elenco generale di dismissioni ma è chiaro che questa dismissione in questo momento deve attendere tutte le autorizzazioni del Ministero dei beni culturali, delle soprintendenze e in ogni caso sarà attivata la sua dismissione soltanto a fronte dell'esito delle alte dismissioni.